Lo sportello del cittadino dice no al razzismo, siamo presso l'istituto di istruzione secondaria superiore Archimede di Taranto e siamo insieme a MUDU, un allievo dell'Archimede, si trova bene in Italia, è integrato, diciamo no al razzismo, siamo tutti uguali a prescindere dal colore della pelle. Siamo tutti uguali, la pelle non c'entra niente a noi, noi siamo uguali, siamo fratelli, tutti uguali davanti a Dio, è così. Ti trovi bene qui da noi? Benissimo, benissimo, mi trovo benissimo qua. Questo anche per dire che Taranto è una città ospitale e che accogliere persone di diversa etnia è un arricchimento morale, spirituale per ciascuno di noi, la diversità e ricchezza. Taranto è una città, posso dire che è una città che devo ringraziare ancora perché è una città che mi dà la possibilità per migliorare la mia vita, mi trattano bene, i tarantini sono beni, sono buoni, mi trattano bene, mi trovo benissimo qua. Ti è mai capitato qualche episodio di razzismo? Eh sì, c'è però... Sono pochi? Sì, sono pochi, anche le persone non sono uguali, uno può pensare così, l'altro può pensare altro, non mi disturbo bene, molto. Bene, su questa terra siamo tutti uguali e per tutti splende il sole e batte la pioggia, per i bianchi e per i neri. Grazie. Grazie.